Nei video precedenti, i numeri 65 e 66 della playlist San Zeno nella Storia, abbiamo visto come nel XVII secolo i nobili milanesi avessero assunto il potere in città, mentre nel contado la storica autonomia dell'Università del Monte di Brianza diventò solo un pallido ricordo. I nobili in pochi decenni estromisero i mercanti e i banchieri dall'élite del comando, un fatto rivoluzionario perché la città di Milano e suo contado avevano sempre basato la propria ricchezza e potenza sull'attività mercantile, sulle banche e sull'artigianato di alto livello. Ma come reagirono i mercanti? Essi predisposero un documento dal titolo Responsum Civitatis Mediolani in Causa Nobilitatis ad Excitat per Eccellentissimum Mediolani Senatum, dove essi sottolineavano che le città marinare italiane più potenti erano tali proprio grazie ai commerci, e così pure Firenze e i paesi delle fiandre olandesi. Inoltre essi sostenevano che i principali filosofi greci come Platone o il medico Ippocrate elogiavano i commerci perché è fondamento della polis democratica. Ma chi erano questi mercanti? Nel XVII secolo erano conteggiate 62 categorie di mercanti e artigiani. Quali erano le categorie del commercio più importanti? Nel 1606 il ragioniere della Camera dei Mercanti, Tiberio Pigliasco, compilò un interessantissimo estimo dei ceti mercantili di Milano. In quell'anno i mercanti milanesi produssero un estimo complessivo di 29.512.482 lire imperiali. La corporazione più importante era quella dei mercanti d'oro e i tessitori e filatori d'oro, con un estimo di circa 6.660.000 lire, seguito a ruota dalla corporazione dei drappelli, Pieri e Lanaioli, con 3.500.000 lire. Orefici e mercanti d'oro erano concentrati nelle contrade degli orefici e dei mercanti d'oro. La prima strada esiste ancora, con il nome di via Orefici, mentre la seconda coincide con la prima parte di via Torino e si estendeva verso l'attuale piazza del Duomo. Due vie centralissime, perché nel Seicento, come nel ventunesimo secolo, il commercio d'elite privilegia le zone più centrali e prestigiose. I mercanti di seta, invece, avevano le proprie botteghe nell'area della Chiesa del Carmine e di via Ciovasso, lungo la via Percomo e la Brianza, centri di eccellenza nella produzione serica. In pratica, Orefici e Lanaioli contavano un terzo dell'intero giro d'affari della città di Milano e davano lavoro ad oltre un decimo degli abitanti della città. Setaioli e Lanaioli sfruttavano le acque dei canali milanesi, in primis della Vettabbia, per far funzionare i loro mulini. Ma nella seconda metà del Seicento capirono che la forza lavoro nel contado costava meno che in città, per cui trasferirono i mulini in Brianza o anche fuori Ducato. In città rimasero solo i mulini per la produzione delle farine. Si ebbero quindi licenziamenti. I disoccupati avevano tre possibilità per vivere. Immigrare, diventare serventi di qualche nobile o chiedere la carità a bordo strada. Non era una perdita da poco per la città, perché i mercanti d'oro e di seta non erano solo dei venditori, ma anche finanziatori della produzione, acquirenti di materie grezze e organizzatori di una rete internazionale di vendite. Insomma, le corporazioni dei mercanti d'oro e di seta comprendevano delle vere e proprie società proto-capitaliste, con soci costituiti da artigiani specializzati e mercanti apportativi operatori di capitali. Queste società venivano regolarmente registrate con un atto notarile, che stilava le regole, garantiva il capitale sociale e formalizzava le modalità su come suddividere l'utile d'esercizio. Continuiamo con la nostra classifica delle corporazioni più produttive. Medaglia di bronzo ai mercanti specializzati nell'importazione di beni dall'estero, con un estimo di 2.700.000 lire. Queste famiglie avevano aperto uffici commerciali, gestiti da figli, parenti stretti o fiduciari, nelle principali città e terre mercantili, ossia Venezia, Lefiandre, Lanza tedesca e danese, Lione e Parigi. Appena fuori dal podio, al quarto posto, ecco gli speziari, con un estimo di 2.100.000 lire, quindi i mercanti di lana grezza, con 1.500.000 lire, ed infine i banchieri con 1.470.000 lire. Stupisce vedere che i banchieri e i cambi a valute si piazzassero solo al sesto posto, con un estimo quasi 5 volte inferiore a quello dei mercanti d'oro. Ecco quindi i fourmagiat, ossia i casari e i venditori di formaggio, i cervele, ossia i salumieri, e i produttori d'olio, in grado di generare un estimo notevole, che quasi toccava 1.200.000 lire l'anno. Via Bergamini, che collega la Cagranda, l'attuale università statale, con Via Larga e l'antico verziere, testimonia una presenza storica di botteghe di casari bergamaschi, appunto i cosiddetti Bergamini. Con poco più di un milione di lire d'estimo seguono i becchè, ossia i macellai, quindi i merzari, che oggi chiameremmo le mercerie, con 880.000 lire circa, e infine i prestinè, ossia i panettieri, i prestinai, con 720.000 lire d'estimo. Oltre a queste corporazioni venivano molte altre, alcune davvero singolari. Argentieri, Callegari, ossia produttori di scarpe, ciabattini, produttori di cordami, fustagnari, ferrari, vairari e tpellizzari, cioè pellettieri, cappellieri, librai e cartai, produttori, profumieri, mercanti di vino e di grano, banchi del pesce e pollerie, mercanti di legname, di feltri, di filo di ferro, di tinture, di carbone e addirittura di piume per i materassi. E poi, postari da buttiro et mascarpa, cioè produttori di burro e mascarpone, e quindi cristallieri e peltrari, calderari, vetrai, produttori di maioliche. Non mancano poi i mercanti di materiali edili come coppi, calcina, pietre per i selciati e i muri. Chi poi produceva cappelli in paglia, ma anche cappelli in legno. E poi i scatolari, boffettari, vasellari e secchionari, cioè venditori di vasi e secchi, concheri, bindellari e stringheri, cioè produttori di scatole, nastri e stringhe. E infine, i produttori e mercanti d'armi, come gli spadari, gli armorari, lanceri, speronari, corregiari, archibuggeri, sellari, morsieri. Più volte abbiamo sottolineato come le armature con punzanatura milanese erano richiestissime dai monachi di mezza Europa, perché erano armature celeberrime per lo stile e la bellezza. Insomma, un made in Milano ben prima di Armani, Trussardi e Versace. Come detto, molte le vie che richiamano questi mestieri mercantili, segno che la città di Milano aveva quartieri, anzi, contrade, specializzate nelle singole mercanzie. Insomma, se sai che cosa ti serve, sai anche dove andare a cercarlo. Alcune di queste vie sono scomparse, come le contrade dei borsinari, dei profumieri, dei pennacchiari e dei fustagnari. Altre strade resistono nell'odomastica cittadina, anche se stravolte da edifici costruiti negli ultimi due secoli, come via Farine, via Cappellari, via Spadari e via Speronari. Numerosi conflitti legali tra le gilde. Alcune corporazioni si sovrapponevano ad altre, come nel caso dei mercanti di seta e filosello, e i mercanti d'oro e seta, e i mercanti di tessuti. Oppure, per esempio, come le gilde dei mercanti di ferro con quelle dei fabbri ferrai. Oppure, ancora, la gilda dei follatori con quelle degli stracciai, che si occupavano entrambi del riutilizzo degli stracci. I primi per produrre carta, i secondi per la produzione di tessuti poveri. Altre gilde criticavano chi gestiva l'attività a monte o a valle, come per esempio i mercanti di seta che si lamentavano della lentezza dei tintori. Le corporazioni spesso cercavano di bloccare quelle concorrenti, ricorrendo al vicario di provvisione. Il vicario invece vigilava contro chi svolgeva l'attività di mercante, senza essere registrato nella rispettiva corporazione. Per esempio, la gilda dei calzolai avocava a sé l'unico diritto a fare scarpe nuove, mentre imponeva alla gilda dei ciabattini di limitarsi a riparare le scarpe vecchie. Inoltre fece passare un regolamento cittadino per cui un ciabattino avrebbe dovuto pagare una tassa di 15 lire alla gilda dei calzolai se avesse voluto usare un pellame nuovo nella riparazione. Se invece il ciabattino avesse voluto fare un paio di scarpe nuove, inaudito, la tassa saliva a 45 lire, sempre da pagare ai calzolai. Beh, i ciabattini ricorsero al tribunale di provvisione, il quale nel 1646 decise che anche i ciabattini avrebbero potuto fare scarpe nuove. Per differenziare il prodotto però, i ciabattini si specializzavano nella produzione di scarpe per il ceto milanese medio-basso, mentre i calzolai per il ceto alto e nobile. Siete interessati ad aprire la vostra attività commerciale nella Milano secentesca? Beh, ci sono regole precise. Prima di tutto, bisognava iscriversi a una corporazione. Nel caso della corporazione degli orafi era necessario pagare uno scudo d'oro come quota associativa e poi superare un test pratico, grazie al quale ottenere una patente di esperto et pratico in detta arte. All'interno delle corporazioni si distinguevano cinque ruoli. A partire dal meno importante vi erano i garzoni, i lavoranti, i mastri, il tesoriere e gli abati. Il compito degli abati era quello di vigilare sul rispetto dei regolamenti da parte dei membri e di rappresentare esternamente la corporazione. Insomma, una sorta di sindacalisti secenteschi. Potevano aspirare al ruolo di abate della corporazione i milanesi che gestivano un'attività commerciale da almeno tre anni o stranieri con un'attività di almeno sei anni. Gli abati erano eletti e potevano votare solo i titolari delle botteghe. Le corporazioni di mercanti nate dalle confraternite medievali si erano evoluti in gruppi elitari poco flessibili, del tutto inadatte al mutare dell'economia europea. Furono spazzate via dalle riforme economiche austriache nel Settecento. Al prossimo video, amici del Bruco.